Musica Benissimo, il The Final Room Li vedo qui, insomma alla fine ragazzi Abbiamo solo una wooden hex Quindi proporrei di Allora, innanzitutto di prendere il legno che c'è Qua, non lo posso riposizionare? No Merda Dovevo fare una lacherata Niente, riproviamo Allora, di così Di così, sicuramente Almeno Ok, perfetto Perfetto Allora, adesso quindi di qua Lì non c'è niente Per fortuna Quindi adesso questo qua non servono Posso tirarli giù Quindi Di conseguenza serve Un piccone di legno Sicuramente Per tirar via Almeno Questi No, questo qua la lascio un attimo E questo Lo scatirò via? Sì, perfetto Quindi Successivamente Faccio altri due pezzi Così Questo lo metto di qua E metterci Il piccolo In questo E qua Possiamo prendere Queste due Pezzi di No, ci ho due No, due Ho due pezzi di ferro Io però A meno che No, qua non c'è dentro niente Proviamo a vedere qua No Merda E qua cosa che c'è? Ah, devo craftare A meno Lì dentro Qua cosa ci va però? Che ci va qualcosa Qua Lì ci va qualcosa Merda Ma non viene più via? Ah, sì Non viene via E queste? Se ci piazzano No Sì, qua sicuramente Vanno qua dentro E vanno bruciati Merda 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 Cazzo Eh Mo so cazzi Mo so cazzi Perché Perché sì Allora A meno che No No, perché ci servono Due bottoni E se io No, aspetta E se io cuocio Questo E lo metto qua Eh ma questo qua Questo qua Questo qua va tirato via Cioè per forza Cioè 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 secondo me Cioè a parte che No È giusto perché Questo Questo Come va così No No C'è qualcosa che Deve Un quadro Questo qua Secondo me È da fare Così Due Vediamo Vediamo Così Questo non è Più sbaglierò Eh Così Ci provo Almeno No No infatti Ricominciamo Allora Qua Prendiamo questo E questo Questi due Innanzi poi Qua Prendo questi due E questo va lì Sì Sì Tiro via Tutto Qua Che tanto Non serve Niente Andiamo a Creare Di nuovo La nostra Il nostro Piccone E tiriamo Giù Questi Eh Già Eh Già E poi Sto Cazzo Due Tre Aspetta Un attimo Aspetta Un attimo Ma O magari Una cazzata Non lo so Se ci provo Due Anche se dubito Che sia così A parte Gli stick Non dovranno Un cazzo Comunque No 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 Assolutamente No Allora Ricominciamo Da capo Così Così E prendiamo Tutto il resto Oh Sta ultima Pezzo L'ultimo L'ultimo Livello Mamma mia Da penare Proprio Allora Con questo Il nostro piccone Così 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 Questo qua La finderò Però Poi Successivamente Successivamente Dobbiamo farci Per forza Il piccone In In cobblestone Questa qua È quella che andremo A creare Il bottone Però Vabbè Questo posso Prenderlo E anche queste due Posso prenderlo Però ce ne sono due Il problema è che ce ne sono due Sono due Perché Sono due Sono due Perché Non lo so Non lo so Non lo so Ah Ma sei un figlio di put Ma ce ne sono Cioè io quella lì La devo prendere dopo Non ci posso Credere Veramente Quale lascio così Almeno Almeno Cioè Almeno Posso prendere Almeno solo questo Esatto Quindi che far Che faccio Così Ma sono un pirla Sono un pirla Cioè io non avevo visto Questo Cioè veramente Io sono Un minchia Con queste Con questo Faccio così Faccio Il coso in cobblestone Lo stone Prendo questo Prendo questo E prendo questo E prendo questo Successivamente posso Prendere Anche questi due Sì perché Tanto Non Non credo Servire A teledì Secondo me A meno che Boh Non lo so Prendo anche questo Ma secondo me Dovevo tenere questi Oddio Non lo so Vediamo subito Con Poi adesso Posso prendere Questo E lo posso E lo metto qua Questi due pezzi Li metto Allora C'ho altri due pezzi qua Ok 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 Scusatemi Diciamo che Mi sono inculato Un po' Nel senso che Dopo Ci sono arrivato Un po' in fondo Solo che Qua dopo Io non sapevo Come arrivare Lassù Quindi L'ho dovuto Riavviare E quindi Di conseguenza Devo fare Anche Così 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 Prendere No Questo No Questo Questo E questo Ok Con questi Due stronzi Ci faccio Altri tre stronzi E prendo questo Ci prendo I tre pezzi Di ferro Forse ci sono arrivato In fondo Vado a prendere I due stick La fornace Ok Successivamente Ci fa Tiro via Questi Che non mi servono Ok Successivamente Faccio così Questi tre pezzi Di ferro Gli sparo qua dentro Anzi Anzi Brucio questi Perché non me ne frega un cazzo Ehm 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 Poi 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 Starci un attimo dietro Almeno altre due Sicuramente Almeno da tenere Nei due Ecco Diciamo Queste due Devo tenere Anzi no Queste quattro Devo tenere Così è giusto Perché ecco Due più Ok Perfetto Con queste Ci andiamo a fare Il piccone di Ferro Col piccone di Ferro Ci andiamo a tirar via I tre diamanti I tre diamantozzi Ehm Ci tiro via anche questo Perfetto Ho la leve E due Altri due Coal Questi due Beh vabbè Questi due non serviranno A un cazzo Boh Io riprendo Con questi due Ok Perfetto Tiro via Questi Con molta calma Muoversi Ok Ok Perfetto Dai 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 Veloce Ok Allora Adesso Adesso Da quello che mi ricordo Qua Si possono piazzare questi Quindi uno Due E tre Ok Quindi Qua non si può Ah Ho capito Ho capito la leva Dove va messa Va messa Così va Dove cazzo va Ok Questo tiro via Questo va di così Poi va di così Ci sto capendo qualcosa Ragazzi Ci sto capendo qualcosa Ok 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 Così Proviamo Ragazzi Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio E perfua Uno Due Tre E andiamo E andiamo Ce l'abbiamo Fatta Siamo dei pro gamer assurdi Della madonna Della madonna Della madonna Siamo dei boss Dei boss E niente ragazzi Anche questo video Ormai Si è concluso L'abbiamo portato A termine Questa piccola Molto piccola Custom map Vi invito Come sempre A lasciare un bel mi piace Un bel commento Un like Alla pagina facebook Vi lascio Il link In descrizione Per supportarmi E ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi